Ciao bellissime, allora io stamattina ho avviato Shogun perché ho visto che ha fatto, ho scaricato una patch e non capivo cos'era L'ho avviato, prima era una cosa abbastanza anche dignitosa, poi avviandolo mi è venuto fuori una cosa del genere Cioè io dico ma quelli della CIA sono veramente fumati gli spinelli prima di fare queste cose Ovviamente fa assolutamente clima natalista, a me piace un casino, un menù così, sono contentissimo Però magari potevano fare una piccola patchatina a Shogun perché c'ha tanti baghetti che andrebbero sistemati, mannaggia lui E anche il mio avatar è contagiato dal Natale, oddio, ci sta invadendo Oh, qua c'è, infatti c'è il mio avatar che pure detto sta prendendo pure freddo e mi sa che non può continuare a combattere Perché c'ha la broncoplumite, un altro po' Nel caso se qualcuno si chiedesse perché non faccio più video di battaglie di Shogun è perché tutti i replay che ho sono buggati E quindi sto aspettando una patch che mi sistemi tutti, adesso provo se magari oltre al menu nuovo ci hanno messo qualche cosa che li sistemi Nel caso vi ringrazio per tutto, ci vediamo prossimamente Ciao belle!